A tradire Giulio Innocenzi, il farmacista 37enne che ha perso la vita la scorsa domenica in un tragico incidente che a Mucia potrebbe essere stato un dosso e probabilmente la velocità. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo stava infatti percorrendo il ponte sul torrente S, quando la sua moto si sarebbe spostata sul lato opposto della strada, proprio quando percorreva la parte ascendente del dosso. L'auto, che proveniva dalla direzione opposta, se lo sarebbe così trovato di fronte proprio all'ultimo minuto. Il conducente, pur avendo tentato di schivarlo, non ci sarebbe riuscito. La procura di Arezzo, come sempre succede nei casi di incidenti mortali, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il PM, dopo aver disposto gli accertamenti di rito, ha dato il nulla osta e la salma è stata così riconsegnata alla famiglia. Sempre la procura retina procede poi anche sull'altro drammatico incidente, nel quale, sempre la scorsa domenica, hanno perso la vita due giovani fidanzati di 38 e 36 anni, un ribaltamento sulla Perugia Beltolle all'altezza di Fogliano della Chiana. Su due corpi è stata disposta l'autopsia e poi le autorità hanno disposto la restituzione alle famiglie per i funerali. Per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente è stato sentito anche un testimone oculare che si trovava con la sua auto dietro a quella della coppia. Come apparso sin dal primo momento non ci sarebbero state altre auto coinvolte, ma la vettura dei ragazzi è stata vista sterzare improvvisamente andando a scontrarsi contro il guardrail per poi ribaltarsi. Per far luce su quest'ultimo dettaglio, l'auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.